All'intervento della collega di Andrea, perché Potenza è un comune che non versa in una condizione di predissesto, ma che è appena uscito dal dissesto. Addirittura parliamo del secondo dissesto dichiarato in vent'anni e quindi adesso in maniera assolutamente difficile sta provando a rimettersi sui giusti binari. Io credo che la pandemia che abbiamo vissuto tra le sue mille sfaccettature negative abbia avuto due aspetti positivi. Il primo è quello di rafforzare, di rinsaldare i rapporti innanzitutto nelle comunità e tra le comunità. Purtroppo vivevamo un'epoca in cui eravamo abituati a viaggiare talmente velocemente che non conoscevamo neanche più le storie dei nostri dirimpettai, dei nostri vicini di casa. E quindi questo ci ha molto aiutato a recuperare quel rapporto. Il secondo aspetto importante è quello di aver chiamato tutti gli amministratori ad una grande responsabilità e averli invitati ad imprimere un'accelerazione importante rispetto alle politiche che devono essere attuate, soprattutto a tutela e salvaguardia delle fasce più deboli. E quando parliamo di fasce deboli non mi riferisco soltanto alle persone che, come diceva il mio amico sindaco di Ferrara, quelle persone che vengono da noi e cercano un posto di lavoro e cercano la casa. Ci sono tante persone, mi riferisco alle attività produttive, che versano in una condizione di difficoltà ancora di più in questo momento e che stanno appunto con grande affanno provando a tirare avanti la carretta. Allora, quali sono le azioni che abbiamo messo in campo? Quando mi sono insediato, questo a prescindere dalla pandemia, noi avevamo il centro storico che, come tanti centri storici d'Italia, stava morendo. Abbiamo detto che chiunque aprirà un'attività nel centro storico per tre anni non pagherà le tasse comunali. Abbiamo emulato questa iniziativa da un altro comune del sud Italia, perché molto spesso siamo abituati a guardare le realtà più virtuose magari del nord Europa. Abbiamo invece delle bellissime esperienze da mutuare molto vicine a noi. In un anno e mezzo, nonostante la pandemia, in un centro storico come quello di Potenza, che è molto piccolo, ha comportato l'apertura di 43 nuove attività. Grazie.